Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Un potente anticiclone è centrato tra la Scandinavia e la Russia europea, mentre tra Balcani e Centro Europa sta agendo un vortice instabile che espande la sua influenza sull'Italia. Queste infiltrazioni di aria più fresca saranno responsabili dello sviluppo di locali fenomeni temporaleschi anche di forte intensità, che potranno svilupparsi sul mare ancora caldo e interessare successivamente le zone interne. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni, per martedì 26 settembre. Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità più compatta sul nord della Puglia e sulle coste adriatiche, associate a locali rovescio temporali sul Gargano, Costa Barese e Bat, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità su tutti i settori interni, con temporali e rovesci specialmente lungo la dorsale appenninica lucana e le zone interne murgiane, possibili temporali anche sulla costa salentina ionica. In serate invece, miglioramento anche nelle zone colpite dalle precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno stazionare con locali diminuzioni nelle zone colpite dai rovesci. Venti deboli settentrionali, con locali rinforzi specie lungo le coste adriatiche. E per quanto riguarda i mari, mosso l'Adriatico, poco mosso lo Ionio. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro amico Gabriele Letizia per aver immortalato il tuffo del sole al tramonto, nelle acque cristalline della costa salentina. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero Whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.